Assolto per non aver commesso il fatto. Con queste parole, ieri pomeriggio, dopo un'ora di Camera di Consiglio, il giudice Paolo De Luca, con una soluzione piena, ha scaccionato Giovanni Piccoli dal ruolo di finanziatore del piano per incendiare il pesce azzurro e per il quale i PM avevano chiesto quattro anni e mezzo di reclusione. L'imprenditore Fanese è tirato in balo nell'inchiesta perché socio dei due ristoratori considerati i mandanti ha atteso con fiducia in aula che il giudice uscisse con la sentenza, fiducioso che la verità venisse a galla. Una vicenda lunga e logorante per lui e la sua famiglia. Oggi ho finito con l'adrenalina della sentenza di ieri, quindi sono ancora molto più sereno di quello che è stato. Non è mai semplice una cosa del genere, poi accade su una persona che ama tanto la sua città, di conseguenza se hai tirato in bala in una situazione di cui non conosci all'inizio neanche di cosa si parli, ti ritrovi in difficoltà. Però grazie alla famiglia e grazie agli amici che bisogna prendere anche il buono, anche dalle cose negative uno riscopre tante amicizie. Ti allontani le persone che magari si approfittavano, stavano vicino per qualche interesse. Ti ritrovi, ecco, ho trovato una grandissima persona, il mio avvocato, un professionista che al di là della sentenza, però ha trovato sempre le parole giuste, con la sensibilità che ci vuole perché sono stati anche momenti difficili. Ecco adesso il tuo percorso, la tua vita, la strada che deve prendere. Ma non è che mi ha cambiato chissà che cosa, però io ho fatto sempre un ragionamento, perché si viene sbattuti sul giornale e poteva succedere di tutto. Quindi uno dice tre anni dopo, vieni assolto, però potevi perdere la famiglia, potevi perdere il lavoro e sono tutte cose che poi non è facile riavere. Per quello dico sempre, mi sono modificato anche io, ero molto, diciamo, prima mi lasciavo perdere a giudizi anche dati dal pensiero emotivo del momento. Adesso sono molto più misurato perché ho capito veramente le difficoltà che si possono incontrare nella vita.